Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il primo maggio, nella sala dell'ipogeo di Piazza Garibaldi a Teramo, è sceso il sipario sulla mostra itinerante Un secolo d'azzurro, dedicata alla storia della Nazionale Italiana di Calcio. Tanti gli eventi e personaggi di spicco arrivati in città, nelle due settimane dell'iniziativa promossa dalle associazioni Teramo Sport e Amici del Calcio Teramano. La mostra è stata inaugurata il 15 aprile scorso dal bomber d'Italia 90, Totò Schillaci. Hanno chiuso in bellezza, lo scorso fine settimana, Carolina Morace, l'ex capitano del Milan, Franco Baresi, e l'ex portiere della Nazionale, Franco Tancredi. Venerdì scorso, Baresi è stato accolto nella sala dell'ipogeo da un bagno di folla, insieme al giornalista Rai, Riccardo Cucchi. La visita di Baresi e Cucchi si è conclusa con una cena al ristorante Villa Bianca di Villa Tofo, alla presenza del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, dell'onorevole Giulio Sottanelli e del presidente del CSI, Angelo De Marcellis. Sabato scorso è stato consegnato un premio alla carriera Franco Tancredi, indimenticato portiere della Nazionale della Roma di Lidom. Anche in questa occasione è stata grande la partecipazione del pubblico alla sala dell'ipogeo, in cui sono intervenuti il sindaco di Giulia Nova, Ivan Costantini, e l'ex allenatore del Giulia Nova, Nicola Tribuiani. Tra gli eventi, da ricordare nell'ambito un secolo d'azzurro, il convegno Donne e Sport, che si è svolto giovedì scorso nella sala polifunzionale, in cui è intervenuta Carolina Morace, l'ex allenatrice della Nazionale Italiana Femminile. Alla fine, grande la soddisfazione degli organizzatori. L'anima è stato Vincenzo D'Antonio, ma hanno dato un grande contributo al presidente degli Amici del Calcio Terramano, l'avvocato Gianni Gebbia e l'appassionato e immancabile ex tecnico biancorosso Diego Di Felice Antonio, un evento che per 15 giorni ha visto Terramo vestire i panni di capitale del calcio azzurro.